È stata una giornata, là delle palme, che ha visto tantissima gente dentro quella cappella, un pienone, come ci dicono, e è stata, come dire, un respiro, perché quando si è entrata in questa cappella, che è accogliente, che è bella, che è spaziosa, si è come tirato un sospiro per dire, oh che bella, e tanti continuano a dire, è bella, anche chi viene a vederla, perché ormai è saputo che c'è la chiesa provvisoria, poi tanti vengono al crocifisso, è bella, 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 ed è veramente bella, anche se così nella prima occhiata credo che non è per durare molti anni, magari fosse che basti per poco tempo, perché è anche molto fragile l'insieme, ma è fatta in modo che è piacevole e che dà il senso anche di raccoglimento, di preghiera, di chiesa. Io avevo chiesto di 500 metri quadrati, è circa così, contiene 400 posti a sedere, sabato attendiamo l'immagine della Madonna della Rocca di Cento, sabato e domenica, che è in peregrinaggio nel vicariato, che è l'anno del congresso eucaristico vicariale, quindi siamo ancora contenti perché abbiamo con noi la regina del mondo, la grande signora che ci accompagna, ci sostiene, ci dà molta speranza. Certo la mia, la Madonna del Pio, detta del Settecento, era giù dalla nicchia, fuori dalla nicchia consueta, chiamo la sua casa, che era in parete nella chiesa collegiata, e ogni mese di maggio, tutti gli anni, non so da quanti anni, ma penso da secoli, veniva fatta discendere, messa vicino all'altare maggiore, in modo che il mese di maggio si cerebrasse in chiesa e lì si avesse davanti anche l'immagine della Madonna, molto bella, io in carta a pesta la dico sempre, è molto bella. Purtroppo la posizione dove si trovava, il famoso 29 maggio dello scorso anno, è stata investita dalle macerie della cupola che è caduta con la scossa di quella mattina. Noi aspettiamo allora che quella Madonna che è andata a Modena, a Sassuolo, in casa della sovintendenza, perché è da loro, e attendiamo che venga ristrutturata, rimessa nuova, adesso vediamo come questo accadrà, ma siamo convinti che ritornerà. Grazie. Grazie. Grazie.